Buonasera Allora Questa sera volevamo segnare un premio A effettivamente un piccolo pensiero Dio Dio Leonardo del Attimo Il suo ultimo anno da svegliere l'esercito Allora Quindi insomma Arrivo il polvere Vieni, vai Nelly Bard Buonasera Buonasera Canta Allora, la testa è stata studiata dalla Teletra Meoni, così. Comprende questa immagine rivisitando il presidente Con dietro le sue frasi celebri Ne leggiamo alcune Mi risposta la mia mail sulla medusa Hitler Bene, speriamo che ti vedi una medusa, uomo di merda Tipi di frase, andate a fare il culo tutti quanti Oppure, le fevole si contano a maggio Lo conti, sei ma non piace la forza Il prossimo anno mi butto tutti fuori a calci nel culo Questa è bella, è una malata a me Ero a cagare, adesso devo lavorare, non rompermi i coglioni Telefonata di Marco a Leonardo Mimeoni alle 11 del mattino Sei sveglio? Marco a Daniel, cioè a me Nella foto con il gattino sembri proprio un pinocchio incallito Sempre rivolto a Daniel A 40 anni, da quanto tu sei grasso, ti vengono a raccattare con la vino Oppure una frase rivolta a noi tanti geometri Non avete proprio da fare un cazzo Qui non lavora nessuno Se rinasco, faccio il geometra E l'ultima che era diretta a me, a Meoni E anche a qualcun altro A voi potrei dare anche il tavernello Tanto di video non ci capite un cazzo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti